Il Comando Provinciale di Salerno e la città di Vallo della Lucania organizzano una cerimonia di presentazione del distaccamento di Vallo della Lucania del Lampana, guardie ecozofile ed istituzione del servizio di attività di prevenzione e di vigilanza in materia ambientale. L'evento si terrà nella giornata di sabato 24 settembre alle ore 10 presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania, nei pressi dell'ex Convento dei Dominicani. Nel corso della mattinata interverranno il dottor Antonio Aloia, sindaco di Vallo della Lucania e il maresciallo senatore Vincenzo, comandante provinciale Ampana. Inoltre all'evento saranno presenti anche Simone Veneri, comandante del distaccamento e Angelo Palladino, vice comandante del distaccamento.